buongiorno buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti da karim le previsioni dell'otto dal 22 agosto martedì 22 agosto per quattro colpi ok ascoltate bene questo video che faccio perché alla fine c'è un altro io ho pubblicato solo un ambo secco da giocare ambo ambetto da giocare ok sul due ruote bari venezia e tutti più nazionale che vuole io non obbligo a nessuno e poi c'è un al terzo numero da giocare lo dico alla fine del video per fare il terno ok per fare il ho cambiato un metodo di studiare ho cambiato tutto di tutto e speriamo che mi funziona ho provato fatto delle prove ho fatto delle prove mi risultano mi risultano bene ok allora ragazzi il metodo questo va giocato bari venezia tutti i più nazionali ok e poi voi sapete come si gioca ambo ambetto quelle della settimana scorsa l'avete visto che abbiamo fatto due volte ambata quelli che giocano ambata ci sono anche tanti che giocano un numero solo sulla ruota e grazie di la fiducia che ne hanno giocato ok avete visto che è uscito l'82 sul napoli se non sbaglio se 82 mi sembrava controllo controlliamo la situazione se l'82 e l'89 è uscito due volte sul napoli e l'82 ok voi giocate sulla ambata come volete voi ok allora ragazzi ascoltatevi il numero e ragazzi che sono da giocare sono questi il 2 e 53 2 e 53 ok su bari venezia tutti più nazionali ok per quattro colpi però alla fine del video io do un altro numero da aggiungere in più chi vuole per fare il terno ok se volete giocare questi due sono oppure aggiungete questo numero il numero è il 44 lo dico 3 4 volte per il terno giocatelo tutti i tre si può darsi che esce il solo un ambus o tre non si sa mai magari un terno secco magari 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 ok allora 2 53 più il 44 perché io ho fatto apposta un ambus vediamo se la gente ascolta il video o no e si gioca in più il 44 l'ho fatta apposta ve lo vedere la gente se mi guarda i miei video ok tutto qua non per cattiveria però io dico solo la verità perché a me non mi interessa quelle la gente quella che dici le previsioni le ho date sempre gratuitamente senza chiedere niente a nessuno ok che non ancora scritto si iscrivete nel canale ragazzi le previsioni sempre gratuita attivate il campanellino così arriva la notifica ogni volta metto le previsioni ok dell'otto dici all'otto anche milion day milion day si inizia da stasera l'avete visti fino per setticolpi che lo vuole già giocare da stasera sono disponibili ok ciao ciao a tutti al prossimo video buongiorno buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti da karim le previsioni dell'otto dal 22 agosto martedì 22 agosto per quattro colpi ok ascoltate bene questo video che faccio perché alla fine c'è un altro io ho pubblicato solo un ambo secco da giocare ambo ambetto da giocare ok sul due ruote bari venezia e tutti più nazionale che vuole io non obbligo a nessuno e poi c'è un al terzo numero da giocare lo dico alla fine del video per fare il terno ok per fare il terro cambiato metodo di studiare ho cambiato tutto di tutto e speriamo che mi funziona ho provato fatto delle prove ho fatto delle prove mi risultano mi risultano bene ok allora ragazzi il mitodo questo va giocato bari venezia tutti i più nazionali ok e poi voi sapete come si gioca ambo ambetto quelle della settimana scorsa l'avete visto che abbiamo fatto due volte ambata quelli che giocano ambata ci sono anche tanti che giocano un numero solo sulla ruota e grazie della fiducia che hanno giocato ok avete visto che è uscito 82 sul napoli se non sbaglio se 82 mi sembrava controlliamo la situazione dove sono non sbaglio se 82 e 89 è uscito due volte sul napoli e l'82 ok voi giocati sulla ambata come volete voi ok allora ragazzi ascoltatevi il numero ragazzi che sono da giocare sono questi il 2 e 53 2 e 53 ok su bari venezia tutti più nazionali ok per quattro colpi però alla fine del video io do un altro numero da aggiungere in più che vuole per fare il terno ok se volete giocare questi due sono oppure aggiungete questo numero il numero è il 44 lo dico 3 4 volte per il terno giocatelo tutti i tre si può darsi che non si sa mai magari un terno secco magari 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 ok allora 2 53 più il 44 perché io ho fatto apposta un ambo vediamo se la gente ascolta il video o no si gioca in più il 44 l'ho fatta apposta vedere la gente se mi guarda i miei video ok tutto qua non per cattiveria però io dico solo la verità perché a me non mi interessa quelle la gente quella che 10 le previsioni le ho date sempre gratuitamente senza chiedere niente a nessuno ok che non ancora scritto si iscrivete nel canale ragazzi le previsioni sempre gratuita attivate il campanellino così arriva la notifica ogni volta metto le previsioni ok dell'otto dice all'otto anche milioni dai milioni dai si inizia da stasera l'avete visti fino per 7 colpi che lo vuole già giocare da stasera sono disponibili ok ciao ciao a tutti al prossimo video